Salve a tutti, oggi con me, come ogni venerdì, Filippo Giannini di tradingfacile.eu e con lui faremo il punto della situazione sull'indice italiano. Come sempre lascio i grafici e le analisi a te. Sì, ciao Rossana, ben trovata. Sì, volevo con te oggi andare a fare il punto della situazione sul Fuzzimib. Fuzzimib molto tecnico nel corso delle ultime settimane. Nel senso che dopo la barra rialzista del 24 marzo, punto dal quale avevamo ipotizzato l'inizio di una possibile nuova salita con target di breve a 24.600 punti, il mercato ha rispettato in pieno le aspettative e da qui il mercato poi ha iniziato un movimento correttivo e quindi diciamo che in questo momento c'è da capire quali sono i livelli che potranno appunto decretare la fine della correzione e se ci sono ancora prospettive di rialzo a Piazza Affari. La mia idea è che il mercato riprenderà la via del rialzo. Sappiamo che anzi sotto questo punto di vista aprile è storicamente il mese migliore a livello statistico per Piazza Affari. Quindi sicuramente ci aspettiamo da qui alla fine del mese una ripresa del trend long. Sappiamo anche insomma che è diminuita fortemente nel corso degli ultimi mesi le posizioni corte degli istituzionali sui titoli di Piazza Affari. Quindi Piazza Affari sappiamo che è un mercato sempre diciamo ecco tenuto di mira da parte degli speculatori in ottica short. Invece complice anche chiaramente il governo Draghi è diminuito fortemente, quasi dimezzato il numero di titoli sui quali gli istituzionali sono short. Quindi questo chiaramente alimenta le speranze di una ripresa delle quotazioni ancora più significativa anche perché il Futsimib si trova su livelli meno tirati rispetto ad esempio al DAX che si trova in una posizione un pochino più delicata. Detto questo però occhio perché perché questa salita del corso delle ultime settimane è stata comunque sia caratterizzata da una bassa volatilità e anche da volumi decisamente sotto la media. Questo che cosa significa? Significa che in caso di discese queste discese incontreranno con tutta probabilità meno difese da parte dei compratori per lo meno in una prima fase. Questo per dire che cosa? Che pur essendo il primo livello da tenere d'occhio quota 24.250 punti io mi aspetto che la correzione possa spingersi fino a livelli più bassi. Dove abbiamo due livelli in particolare da tenere d'occhio che il primo è 24.000 punti numero tondo che a mio avviso è anche il livello più probabile dove il mercato può andare a fare una base di accumulo per poi ripartire long. Ma abbiamo anche quota 23.650 punti minimo di questa correzione di marzo dove ecco ci può stare insomma che magari il mercato in intraday possa andare a ritestare tale area. Su questi livelli io mi aspetto però nuovi ed importanti acquisti. Quali sono i target? Beh innanzitutto il ritest dei precedenti massimi e poi c'è quota 25.000 punti ma il target a mio avviso è ancora più ambizioso perché io ritengo che in caso di break di quota 25.000 punti il mercato sarà protagonista di una nuova e ben più importante accelerazione. Il target è fissato sotto questo punto di vista a quota 26.000 punti. Perfetto Filippo io ti ringrazio per l'ampia panoramica e come sempre ti mando l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie Rossana, arrivederci a tutti. Grazie a tutti.